oh eccoci qua benvenuti a tutti alla rassegna stampa di scazzo moderato buongiorno sono le 7 10 in italia come va comincio questa diretta con la foto di una bella risorsa di cui parleremo dopo perché la prima notizia in verità che vi voglio dare aspetta intanto eccoci qua col bel capoccione di zio scazzo ecco i primi che si stanno iniziando a collegare ciao a tutti chi c'è faccio un saluto ai primi che si fanno sentire come sempre e poi cominciamo allora siamo la prima notizia comunque ve la leggo da repubblica ma diciamo è solo un appuntino una battutina che voglio fare per vedere cosa ne pensate voi ok repubblica scrive pier silvio tentato da un futuro in politica sente l'eredità paterna ciao mara ciao laura ciao alessandro alessandro il tuo cognome potrebbe trarre in inganno è perché da leggere alessandro piroddi alessandro pidioti è un attimo è veramente quindi bisogna stare molto attenti a leggere il tuo cognome va bene quindi secondo repubblica l'amministratore delegato di mediaset apprezza il lavoro di italiani dopo gli ultimi risultati organizza il ricordo tv del padre e guarda al voto delle europee ciao tri e ciao maria ora la domanda è se walk silvio decidesse di entrare in politica secondo voi entrerebbe in forza italia o più probabilmente nel partito democratico perché io ho forti dubbi oppure entrerebbe in forza italia poi sposterebbe forza italia ancora più a sinistra portandola non lo so ad allearsi con renzi calenda e a essere una specie di nuovo centro sinistra che costringe il pd ad allearsi anche con loro e magari a tornare un po verso il centro perché non sono così sicuro che in forza italia cioè che le idee di silvio berlusconi siano adeguate a un partito di centro destra no vedo che alessandro ha risposto quindi così questa era la prima riflessione che vi volevo fare adesso parliamo della guerra civile che la sinistra occidentale sta muovendo contro tutte le nazioni che hanno la sfiga di avere la democrazia e quindi di lasciare che certe idee massani si propaghino indisturbate questa è la faccia di un immigrato clandestino entrato negli stati uniti che ha tentato di rapire una bambina di 13 anni mentre usciva da scuola mi immagino quanto quante risorse quanto multiculturalismo abbia portato ai genitori il pensiero che questa bestia voleva portarsi via la loro figlia e sappiamo tutti cosa ci faceva ci avrebbe fatto con quella bambina male alle femministe questo non importa perché quando ha il colore giusto della pelle le femministe si fanno un pisolino vediamo sempre di altre risorse questa volta in italia come ci titola lanza notizia di due giorni fa arrestati tre palestinesi progettavano un attentato inciso giordania attenzione contro l'insediamento israeliano di avenei hefez i tre sono accusati di proselitismo e propaganda un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita all'aquila dalla polizia di stato nei confronti di tre palestinesi per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale e di eversione dell'ordine democratico mi ricordate com'era la risposta dei buoni degli inclusivi degli immigrazionisti quando qualcuno diceva guardate che se fai entrare centinaia di migliaia milioni di persone continuamente senza controlli ovviamente ti entreranno anche dei terroristi come era la risposta non è vero sei così razzista solo a pensarla una cosa del genere non si può dire assolutamente brutto nazi trumpista un pochino leghista sei proprio fascista non ti permettere mai più di dire una cosa del genere perché mi sento così offesa ovviamente offesa senza la lettera finale perché dire offeso offesa potrebbe essere offensivo anche per qualche transgente transone a invece c'entrano i terroristi dei confini aperti a quindi a questa quel multiculturalismo che ci volevano insegnare la profezia della boldrini sia vera vivremo come ci porteranno uno stile di vita nuovo esatto fatto di attentati di bambine rapite di stupri di violenze di mancanza di uguaglianza fra uomo e donna di disprezzo verso le minoranze sessuali web grazie 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 apprezziamo tantissimo sono sicuro che questo tutto questo multiculturalismo viene apprezzato da tanti e tanti italiani adesso passiamo un attimo al mio paese nel senso il mio paese adottivo visto che ci vivo da nove anni abbondanti ovvero dubai mi è arrivato un video che adesso vi faccio vedere da una utente una seguace la parola immagino corretta anche se un po un po religiosa è seguace una persona che segue scazzo moderato e ve lo faccio vedere perché è importante il commento bisogna sempre stare attenti a a non rischiare da passare da complottista che aveva sempre ragione a fulminato totale allora qui c'è questo video leggiamo prima il commento ok è stato pubblicato dalla signora agostina cistun ok e commenta queste sono finte balene olografiche a dubai possono falsificare gli ufo false esplosioni di bombe nucleari e falsi ritorni del messia sii pronto e non avere paura ok quindi quindi ci sono a dubai no abbiamo le balene olografiche se ti possono creare delle balene che volano in cielo la realtà non ha più senso perché potrebbero creare qualsiasi cosa ok ecco le balene olografiche la gente che le guarda poi qui addirittura una balena che esce fuori cosa fa questa balena vola ce n'è un'altra che vola guardate che roba vole passa davanti a c'è un elicottero e passa davanti a una torre con un mega tendone blu e con scritto coming soon quindi sta per succedere ok peccato che questo video sia completamente falso questa è solamente computer grafica neanche fatta benissimo e il video è semplicemente semplicemente una mega pubblicità alla nuova torre al nuovo grattacielo di si vede anche qui iscritto al app tour che è un grossissimo costruttore immobiliarista qui degli emirati che ha fatto tutta questa animazione per farsi pubblicità su facebook perché la gente guardava e poi boom appare questa roba qui ma è pura computer grafica ok il l'elicottero è falso eccetera quindi ve lo faccio vedere più che altro per farvi notare di stare attenti che chi se ne viene fuori raccontando balene olografiche e dovete stare attenti perché i poteri forti falsificano le invasioni ufo vi fanno vedere falsi messia false bombe nucleari si pronto può succedere di tutto no era semplicemente una pubblicità molto creativa e un sacco di boccaloni sono cascati ci sta cioè lo capisco e anzi chi mi ha mandato questo video ha fatto bene a mandarmelo così io ho fatto presente che era assolutamente totalmente fake adesso andiamo invece a uno dei professori universitari più apprezzati d'italia e anche da molti utenti di scazzo moderato perché voglio fare una riflessione con voi sul professor alessandro orsini che io seguo su facebook e quindi baso le mie conclusioni sul suo pensiero e sulle sue esternazioni semplicemente leggendo quello che scrive non mi invento niente ok non ci inventiamo niente il professor orsini scrive cari studenti che con un mio grandissimo onore mi seguite mi volete bene grazie a voi che va che date un senso alla mia vita di studioso ho visto che avete indetto una nuova manifestazione pro palestina per sabato 2 marzo a pisa sono fiero di voi sappiate che vi guardo con ammirazione ciò che voi state facendo per i bambini di gaza è bellissimo so che siete tutti bravissimi ragazzi la parte migliore dell'italia il futuro luminoso del nostro amato paese orsini se volete il risunto se non fosse ben chiaro perché se lo dico io magari non mi credete quindi è meglio che lo leggo orsini sta dalla parte dei centri sociali orsini sta dalla parte di quelli che caricano la polizia orsini sta dalla parte di quelli che fanno casino e poi se si prendono una manganellata in testa hanno anche il coraggio di lamentarsi non me lo sono inventato io lo dice lui chiaramente sono la parte migliore d'italia il futuro luminoso del nostro amato paese ma magari qualcuno potrebbe avere ancora dei dubbi quindi andiamo a vedere un altro post di orsini non ve lo faccio vedere non è che perché sennò qualcuno perché troppo spesso la gente dice no ma però perché a biribì biribà allora è scritto qua e ve lo leggo giorgia meloni invia le armi in ucraina perfetto ok giorgia meloni invia le armi in ucraina in una guerra persa tanto tempo fa e perde le elezioni per la presidenza della sardegna nessuno al momento è in grado di stimare esattamente il peso del voto pacifista nella vittoria della candidata di conte e schlein alessandra todde ma nessuno può escludere che gli elettori che odiano massacri e genocidi abbiano avuto un ruolo importante certo il primo partito in sardegna è il pd che continua a inviare armi però la vittoria di misura e la schlein ha lasciato intendere mille volte di essere una pacifista costretta a inviare armi perché le hanno puntato una pistola politica alla tempia quindi riassunto la schlein ricordiamoci che vi avevo già fatto vedere un altro video che lui diceva che se dovesse votare voterebbe per conte antonio e scusate giuseppe conte del movimento 5 stelle il signor orsini che scrive sul fatto quotidiano dice che giorgia meloni è una criminale perché vota per l'invio delle armi mentre ellie schlein è una pacifista la quale vota anche lei per l'invio delle armi ma perché è costretta a una pistola politica puntata alla tempia qualcuno ha ancora dei dubbi su quale sia la parte politica culturale la cornice mentale all'interno del quale si muove il pensiero del signor orsini no perché penso che ogni tanto sia chiaro sia chiaro specificarlo c'è bisogno di specificarlo perché c'è troppa gente di destra che secondo me è casca un pochino diciamo fomentata dall'odio anti americano casca casca poi nella propaganda di certi personaggi vi sia chiaro che tutte le volte che nominate orsini state nominando uno che difende ellie schlein che sta con conte che scrive sul fatto quotidiano e che sta dalla parte dei centri sociali che vanno a fare casini per le strade ok sono la migliore italia la speranza del paese per il signor orsini ah ma io non allora vedo che per esempio emanuela infatti eccola qua ce l'abbiamo emanuela mi scrive io sto semplificando troppo ma come faccio a semplificare ciò che lui scrive spiegami come faccio io a semplificare quando sto leggendo parola per parola quello che lui scrive lo scrive lui e qui non me lo sto inventando io fra l'altro e qui voglio chiudere la diretta molto spesa aspetta aspetta c'è un altro post partiamo partiamo da questo post ok partiamo da questo post che ha scritto due giorni fa ok 10 marzo 10 marzo per ogni proiettile della nato che l'ucraina lancerà contro la russia la russia lancerà 10 proiettili contro l'ucraina questa è la previsione che fece l'inizio della guerra i numeri che provengono dal campo hanno sempre confermato questa regolarità empirica l'ucraina ha perso la guerra rovinosamente l'avevo detto trattiamo subito o allora anche qui è importante il ragionamento ok perché perché orsini si definisce scienziato lui parla sempre no come queste qui la regolarità empirica la prova empirica è la prova sul coso ok sul campo delle tue teorie no la teoria di orsini se qualcuno avesse bisogno di ripassare può andare pagina alessandro orsini su facebook la trovate da due anni è sempre la stessa cioè oggettivamente su questa cosa no lui è coerente la guerra l'ucraina non la può vincere la russia è troppo forte quindi bisogna trattare con i russi e e in questo modo si finisce la guerra si troverà una pace sostanziale ok così non ci saranno più morti ucraini ok per evitare morti ucraini bisogna trattare con la russia chiaro chi non lo capisce qualcuno non l'ha capita questa cosa è chiaro bene peccato che la stessa teoria non vale per il conflitto israelo palestinese come mai non vale per il conflitto israelo come mai è evidente che israele è molto più forte di hamas e quindi come mai invece lì il professore orsini ti dice hamas non si deve arrendere mai hamas non deve dare indietro i rapiti le persone rapite le donne bambini anziani contadini tutta la gente che hamas è stata rapita che hamas ha rapito scusate che è stata rapita da hamas non deve non deve non deve trattare con israele bisogna combattere fino all'ultimo palestinese assolutamente nessun nessun tipo di trattativa ma scusa il l'obiettivo è evitare i morti no bisogna trattare per evitare i morti se un esercito è troppo forte tu dici ok scusate avevo torto come mai non ho mai visto orsini dire hamas chieda scusa per i massacri del 7 ottobre hamas faccia un passo avanti dia indietro i rapiti in maniera ad affermare la violenza e l'odio e il furore degli israeliani non è uguale non è empiricamente scientificamente provato che l'esercito di israele è dieci volte più forte di quello di hamas c'è qualcuno che ha dei dubbi su questa cosa come mai il professor orsini ha due soluzioni completamente diverse a una situazione che mi sembra tragicamente simile per il semplice fatto che il finto scienziato della società e della geopolitica in realtà come dico da anni non gliene frega niente semplicemente lui sta contro l'occidente è ammalato di anti americanismo è una persona schierata estremamente a sinistra e come sempre quindi non parte dai fatti ma parte da quello che gli piace quello che non gli piace lui odia l'america pertanto tutto ciò che puzza di america tutto ciò che puzza di occidente si deve sottomettere deve chiedere scusa deve dire colpa nostra avete ragione a voi questa è la trattativa di orsini quindi in ucraina visto che l'ucraina si stava avvicinando all'occidente bisogna chiedere scusa e farsi indietro dall'altra parte hamas visto che hamas è contro l'occidente hamas deve lottare fino all'ultimo palestinese mai e poi mai deve andare dietro gli ostaggi i bambini che hanno rapito mai e poi mai l'ha scritto lui gli ostaggi i bambini rapiti hamas non li deve dare indietro questo è molto semplice è evidente quindi questa è la mia riflessione finale sul sulla logica totalmente inconsistente del professor orsini totalmente inconsistente da una parte c'è un nemico troppo forte quindi bisogna trattarci dall'altra parte se il nemico troppo forte bisogna trattarci si chiama israele allora no bisogna combattere va bene va bene va bene comunque spero di avervi dato qualche informazione utile qualche spunto di riflessione interessante come sempre se vi è piaciuto questo video un bel cazzottone sul pulsante condividi fatemi sapere come la pensate con un bel commento qua sotto io vi auguro buona giornata ci vediamo al prossimo video state informati ciao